Paolo Fonseca è intervenuto al termine dell'ultima amichevole disputata negli Stati Uniti dal suo Milan contro il Barcellona. Le sue parole. Soddisfazione. Sono molto soddisfatto dei giocatori, del coraggio che mettono, di come giocano. Tutti i giocatori. Vediamo già chiare intenzioni. Dopo quattro settimane non è facile. I ragazzi sono stati fantastici in queste settimane. Abbiamo molto da migliorare ma stiamo facendo i passi giusti. La tournée è stata molto molto positiva. Le sensazioni molto buone. Pulisic. Il Pulisic ha fatto una fantastica partita per me. Mi piace molto vederlo in questa posizione con grande partecipazione. Che cosa porta al Milan? Ha fatto una grande prima stagione. Continuerà a essere molto importante. Non ho dubbi. Ha giocato da 10 nel primo tempo. Nel secondo abbiamo giocato senza punte, con Pulisic e Loftus come due numeri di A. Christian può giocare ovunque in attacco. È molto, molto intelligente. Mi è piaciuto vedere lui lì e Selemikers da Terzino? Oggi abbiamo cominciato con una struttura diversa in costruzione, più offensiva. Torriani, si posso dirne solo grandi cose. Non ho parole per lui. Sportiello si è fatto male in hotel. Torriani ha giocato con grande personalità e coraggio. È troppo presto ma non ho dubbi che abbiamo un portiere per il futuro. Questo portiere avrà un grande futuro.